Ok, siamo entrati al fine in Rec Room da PC Poi vedremo anche come entrare con la realtà virtuale Ma questo primo ciclo di video serve per capire un po' come fare Allora, come vedete, sto andando avanti con W Ecco E c'è questa signorina che ci aiuta a dire Vedete che lui dice di guardare il vostro orologio Ma quando siamo in modalità Adesso qui mi sto muovendo col mouse, vedete Che sto andando W Sto prendendo, se vado vicino ad un oggetto Posso, vedete che qui c'è il simbolo Che posso cliccare col destro e col sinistro E prendo il pallone E poi lo posso lanciare Senza realtà virtuale In realtà è un pochino complicato Perché devo Vedete che non riesco a fare canestro Quindi questo tipo di attività per il momento dal PC Sono un pochino vietate Quello che è importante adesso Vedete che sul vostro schermo ci sono in alto a sinistra dei simboli Quindi c'è il microfono Se premo T vedete che si barra Quindi il vostro microfono viene disattivato Con T si accende Quindi le persone che sono lì in questo posto Che tra l'altro è casa vostra, il vostro dormitorio Potete invitarli Ma adesso poi vediamo magari con calma Potete anche con C fare la chat Quindi chat Ok, la chat compare qua Quindi potete anche chattare Ciao Quindi vedete che qua abbiamo già delle cose interessanti Perché abbiamo una chat Che ad esempio in Altspace VR non c'è E non c'era neanche in iFidelity Quindi abbiamo già un bel po' di cose interessanti Abbiamo la possibilità di Premendo 3 E tenerlo premuto Abbiamo le nostre emozioni Ecco tra l'altro magari per capirci Andiamo davanti alla Use the mirror to change your appearance And choose new clothes and accessories to wear Ok, ci sta dicendo la signorina Che possiamo cambiare i nostri vestiti E la nostra apparenza Però andiamo avanti con 3 Quindi facciamo 3 E cerchiamo l'emozione E prendiamo l'emozione addormentato Ok, clicchiamo Abbiamo sempre il 3 premuto E poi lasciamo perdere E quindi vedete che abbiamo una persona assonnata Quindi possiamo fare Diciamo tutta una serie di cose Se premiamo V Vedete che l'avatar si mette a fare una specie di danzina Si vede E questo serve credo quando si fanno le E poi in un momento Vi vedete da fuori E serve per danzare Per fare delle attività sociali con altre persone Vedete che fa una micro danza Probabilmente si può danzare Non l'ho ancora visto Ma lo vediamo Ripremendo V Abbiamo praticamente la visuale solita Abbiamo poi altre cosine Ad esempio Vedete che qui a sinistra e a destra Abbiamo le cose che possono fare La mano sinistra e la mano destra Ad esempio Se io faccio Q Allora qui abbiamo Su qui sta ancora danzando Ok in realtà si è conservata un po' l'animazione Allora se facciamo Q Vedete che Q alza la manina E tra l'altro vedete anche in alto a destra Che c'è il riconcina E se facciamo Il tastino Credo di destra No aspetta Il tastino di sinistra Vedete che si alza la mano Quindi il tastino sinistro alza la mano E Q Allora questo alza la mano così E questo anche Quindi diciamo che poi alla fine siamo lì Z invece fa le gestures Quindi potete fare ad esempio Il cheer Poi fate Z E potete fare Puntare Puntare verso una certa direzione Quindi sono tutte delle cose E questo qui permette di fare Dare il 5 Abbiamo Fare i pugni Verso un altro Quindi fare il pugno Praticamente permette di A volte di fare certe cose Interessanti E questo qui Landshake Permette di dare la mano Per stringere le mani Alle persone E thumbs down Permette di dire Che una certa cosa Non vi piace Quindi esercitatevi Magari in E poi tra l'altro Una volta avete scelto l'animazione Prendendo Z Potete rifarla A piacimento Tenendola in mano Quindi questo abbiamo Il Z Appunto Mano destra Ha delle cose simili Vedete che abbiamo La X Che permette di fare la gesture Con la mano destra Quindi con la destra Quindi potete avere Due gesture In contemporanea Quindi adesso potete fare E E in teoria Dovrebbe applaudire Ma non lo fa Comunque fa Delle operazioni di questo tipo E abbiamo X Che fa La gesture Insomma che avete scelto Ma non è importantissimo Per quello La cosa poi interessante Sono l'1 e il 4 L'1 e il 4 Permette di vedere Delle cose Quindi se noi premete 1 E lo tenete premuto Potete equipaggiare A sinistra Con Una Diciamo Un blocchetto Da punti La penna Magica La penna costruttore E la fotografia Vediamo la fotografia Quindi facendo la fotografia E poi rilasciando Potete fare Una Fotografia Vedete qua E se fate F Potete invertire Quindi fare la foto Di fronte A voi E con F Fate il selfie Quindi se voi fate così Fate il selfie E poi si preme Con il tasto sinistro E si ottiene E questa bellissima foto Che a questo punto Può essere messa Nel vostro profilo Quindi fate così Si conferma la foto Confirma Viene aggiornata la foto La foto a questo punto Diventa parte Del vostro profilo E tutti quando vedranno Voi Capiranno Che possono Che si Vi fotografano Ora Quindi Abbiamo detto Per rilasciare La La macchina fotografica Che avete in mano Dovete premere Vedete in basso Avete lo Z Z Permette Vedete che Sgancia Drop Quindi fate Z La macchina fotografica Va per terra Se volete di nuovo Fare foto Dovete raccoglierla Quindi andare lì E la raccogliete Esattamente come abbiamo Raccolto Il pallone E come Z La buttate No? Ecco la stessa cosa Potete prendere La macchina fotografica Che vi fa Il selfie E poi con Z E poi con Z Buttate per terra L'oggetto Ehm Diciamo che Questo è La base Base Ancora qui Di questo secondo Piccolo video Qui tra l'altro Potete muovervi E in teoria Dovreste potere Anche Vediamo Se andiamo qua E se andate dritto Ecco potete salire O scendere Le scale Se fate La barra Saltate Quindi questo È il modo Praticamente Per muoversi Più elementare Laddove potete volare Potete fare Tap tap Due volte E in teoria Dovreste poter volare Ma qui evidentemente Non è associato La possibilità Di volare Poi ci sono Tante cose Che si possono fare Quindi qui c'è Delle cose Che si possono prendere Ok Quindi qui c'è Il Questo Questa cosa qui La buttiamo Quindi questo Si prende La Se tagliamo Vedete che Beviamo Quindi possiamo Effettivamente Nella versione VR Potevo anche Prendere la cosa E lanciarla Quindi Lanciarla Non so se Ecco Però non si riesce A lanciare Con la modalità Non VR Eventualmente Poi nel video Che faremo Poi con Con Oculus Ok Vi farò vedere Le cose Che si possono fare Allora Se non siete pronti Io vi consiglierei Di non Attraversare Questa porta Perché si entra Nella zona Diciamo Di gioco La zona di gioco Dove ci sono Tutto l'universo Quindi se vi sentite Particolarmente Sociali Fate pure Questa operazione Andate Potete parlare Con persone Di tutto il mondo Ma l'obiettivo Di questi video In realtà Non è quello Di farvi Socializzare In questo momento Ma di poter Usare Rec Room Per costruire Delle strutture Educative E poi eventualmente Nel caso Anche Di questa cosa Oltre alle cose Ovvie Abbiamo il fatto Che La cosa che A noi ci interessa Sono Il fatto Che i giocatori Al di sotto I 13 anni Devono usare Un account junior Ora Usare l'account junior Purtroppo È una modalità Molto Povera Tra virgolette Perché Con l'account junior Non si può usare La chat Non si può usare La voce E soprattutto Avete visto Che premendo uno Avevamo Questa Maker Pen Che è quella Che consente Di fare La costruzione Nel mondo La Maker Pen Non è disponibile Per gli account junior E quindi Io direi Che Per questo motivo Per riuscire A sfruttare Al massimo Rec Room Lo si usa Con Ragazzi Insomma Persone Da 13 anni In su Ok Allora Questo è tutto Per Questa parte Nel prossimo video Vedremo invece I menu Diciamo Il tab Vedete Quello L'orologio Che vi ha indicato La signorina E poi anche Eventualmente La customizzazione Del vostro aspetto Grazie a tutti